Bene ragazzi, prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione Instant Gaming dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi scontatissimi Resident Evil e tutti Division 2 Metro un sacco di preordini anche a prezzi super vantaggiosi Mi raccomando Instant Gaming E' bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi mamma mia mamma mia quanta roba ho da dirvi nel video di oggi Ne avrei davvero tonnellate per informarvi su tutto quello che vedrete Ma oggi parleremo ragazzi, porca miseria porca questa è la domanda Parleremo in dettaglio dell'evento Marshmallow ragazzi L'evento che arriverà il 2 febbraio alle 20 a Parco Pacifico Vi spiegherò un po' di cose, vi farò vedere cose interessantissime Parleremo anche dei cambiamenti che stanno ora in ora avvenendo nella mappa di gioco E come vi anticipavo ovviamente una valanga di leaks per tenervi aggiornati e per farvi vedere un sacco di cose strabelle Mi raccomando però un bel like prima di vedere il video iscrivetevi tantissimi al canale e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video o sulle mie live L'avete già vista? Ve la faccio lo stesso ugualmente la domanda Mi raccomando i vostri commenti qua sotto ci tengo a sapere un sacco Ma il prigioniero ti piace? Com'è? Allora a parer mio per essere una skin che ci verrà regalata perché dovrebbe essere senza ombra di dubbio La skin segreta che riceveremo giovedì al completamento di 4 sfide della settimana 9 Secondo me è veramente bellissima Considerando anche ragazzi che è una skin che ha diversi stadi Vedremo più avanti nel video I vostri commenti qui sotto se vi piace o no il prigioniero Ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance Andiamo subito subito a parlare velocemente della schermata di caricamento della settimana numero 10 L'ultima che vedremo e come vedete ragazzi oltre ad esserci il prigioniero di spalle Abbiamo anche una mappa sullo sfondo completamente senza neve Questo ragazzi è un ottimo segnale anche perché io mi sono stufato di vedere la neve Ma se andiamo a vedere la mappa in queste ore ragazzi Probabilmente se voi la aprite in questo momento sarà ancora più evidente Perché veramente ad una velocità incredibile la mappa si sta rimodificando E quindi la neve si scioglie ragazzi partendo dall'alto a destra dove c'è il nuovo quartiere E guardate questa immagine che mi veniva da piangere Quando sono andato nel battle royale nel pezzo ragazzi Che meraviglia il verde finalmente dell'erba e dei campi Non ci sarà più la neve Finalmente la ritroveremo entro la fine della stagione Al suo stato originale Ma andiamo avanti ragazzi e vi parlavo appunto Della skin segreta La skin neve Che non è altro in realtà che il re dei ghiacci Non vi voglio bruciare tutte le fasi Ma questa ragazzi sarà la fase finale Il quarto stadio che è davvero molto molto figo Tra l'altro c'è un bel po' di roba da dire su questa skin In rispetto a quello che è stato trovato nei file di gioco Come vedete lui ragazzi ha della lava Che gli passa per tutto il corpo Sulla testa, sul torace Che cosa è sinonimo? La lava oltre ai vulcani Dai che ci arrivate Esatto Ai terremoti Quando c'è un terremoto Smuove ovviamente la crosta sotto il suolo E la lava potrebbe più che altro uscire Perché dico questo ragazzi? Oltre perché non sono pazzo Ma per farvi vedere una cosa Ve la dico più tardi Parliamo adesso ragazzi di un'altra Delle skin recuperate L'ultima che non vi avevo fatto vedere Nel video di ieri pomeriggio La skin Rhino Ancora ragazzi una skin dedicata Ai robot Alla fantascienza A questi droni un po' strani E' particolare come skin Perché è veramente molto molto strana Come vedete abbiamo un set completo Addirittura composto da deltaplano Piccone Piccone che abbiamo già visto In altre forme se non ricordo male In qualche altra skin E la skin in sé Che se devo dire la mia Vista in questo render Non mi fa proprio impazzire Vedremo quando sarà disponibile Come sarà effettivamente In game Ma andiamo avanti ragazzi E parliamo di quello che vi stavo dicendo Appunto prima della skin Rhino Questa ragazzi E' una roba Incredibile Qua parliamo Di season 8 Ragazzi E nella season 8 O forse Tra cavallo della season 7 E della season 8 Ci sarà un terremoto Nella mappa di fortnite Come vedete questi sono file Presi direttamente dalle sottocartelle Del gioco E' evidente Che c'è scritto Event Earthquake Vuol dire evento Terremoto Tradotto in italiano Non sappiamo che cavolo Dovremmo aspettarci Ma come vi anticipavo Boh Chi lo sa Forse il fatidico vulcano Di cui si parlava Nella season 5 Non lo so Ma abbiamo ragazzi Altri due stringhe di codice Che ci danno la conferma Che sto parlando Della stagione 8 Come vedete S8 Lead up event Quindi S8 sta per season 8 E dice Athena event Earthquake Earthquake Tremors E sotto Hours Remain Quindi è una roba Che ci verrà Forse In qualche modo Annunciata Non sappiamo come Ma ovviamente Appena saprò di più Lo saprete Anche voi Andiamo avanti ragazzi E parliamo invece Di tutto Il mega evento Che sta preparando Epic Games Per sabato 2 febbraio L'evento di marshmallow Questi ragazzi Sono stati trovati Nei codici Nei file di gioco E sono dei nuovi Mortai Che probabilmente Alcuni dicevano Che potrebbero Entrare Come oggetti No Secondo me Faranno parte Della scenografia Di questo mega evento A parco pacifico Questo concerto Virtuale Raga sarà una roba Allucinante Sarà A parco pacifico Abbiamo Dei codici Come state vedendo Che ci spiegano E ci dicono Che sono Fireworks Mortar Quindi I lanciatori Di fuochi D'artificio In poche parole Ci saranno Degli spettacoli Pirotecnici E tanta tanta Musica Per questo evento Virtuale Nell'evento Davvero incredibile Ragazzi Una roba Allucinante Voglio farvi vedere Questa immagine Andate pazzi A vedere questa immagine Questo ragazzi In realtà È l'evento Ok Però tutto Splittato Quindi non è il video Ma sono i frame Di quello Che succederà Non spaccatevi gli occhi Ve lo tiro via Vi faccio vedere Un'immagine Un po' più carina Un po' più interessante Beh ragazzi Guardate un po' Che meraviglia Come vedete Sul tavolo del DJ Ci sono i lanciafoghi D'artificio C'è un marshmallow Dietro che sta Tranquillamente Facendo il suo lavoro E come vedete Sopra la mia testa Un poster Quello che vi ho pubblicato Anche ieri pomeriggio Che annuncia appunto L'evento L'evento ragazzi Sarà veramente Molto interessante Anche perché Oltre ad essere un evento In sé Vedrà anche Tre sfide Che dovremmo completare Per sbloccare Lo spray di marshmallow Il balletto E il piccone Al completamento Di queste tre sfide Sbloccheremo invece Uno standard Molto bello ragazzi Con la F di Fortnite E dietro Tutte le casse Per Ballare Voglio farvi vedere Di più ragazzi Sbronk Questa ragazzi È lo stage one Il primo stage Sembrerebbe Della prima sfida Questa è una roba Veramente incredibile È una cacatina Ma veramente Non ce l'ha quasi nessuno Ballare Sopra Un Cartello Dello stop Stage 2 Ballare Sopra Il nuovo Ristorante Durburger E final stage Ballare Sopra Il palco Del concerto Al completamento Di queste tre sfide Probabilmente Sbloccheremo Lo spray Di marshmallow Per ultimo Ragazzi Vi faccio vedere Anche questa roba Che è stata trovata Che è una Beach Volley Ball Quindi Non si sa Se sia un oggetto Che ci verrà regalato Durante L'evento Un oggetto Che sarà possibile Magari Ottenere In qualche modo C'è Ed è di marshmallow Perché ovviamente Lo riconosciamo Dallo sguardo Quindi staremo A vedere Che cavolo Succederà Questo invece Ragazzi È un render Della skin Che potremo Acquistare Ovviamente Nello shop Durante L'evento Beh ragazzi Io vi ringrazio Tantissimo Vi ho detto Le cose più importanti Spero che il video Vi sia piaciuto Un bel pollicione In su Iscrivetevi al canale Noi Ci vediamo presto Ciao 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 Ciao